La posizione di integrazione nella pratica sportiva nasce dalla collaborazione tra CONI ed Herbalife24. In questo manuale vengono trattati gli sport di potenza. Sono discipline in cui la durata del gesto è molto breve, si parla di pochi secondi, e quindi c'è le espressioni di massimi livelli di forza. Alcuni esempi sono i salti, i lanci dell'atletica leggera, ma anche gli sprint, in 100 metri per esempio. Oppure lo short track, il ciclismo di velocità, il nuoto delle brevi distanze. In queste discipline quindi conta molto la parte esplosiva ed è molto importante la gestione del peso corporeo, quindi il rapporto peso-potenza. Nel manuale infatti vengono illustrati le modalità attraverso le quali gli atleti possono ricercare l'ottimizzazione del peso corporeo senza rinunciare a un corretto regime nutrizionale. Ecco appunto che viene di aiuto l'integrazione per supportare l'atleta prima, durante e dopo le sessioni di allenamento, ma anche nell'arco di tutta la giornata. Nella parte finale del protocollo troverete dei piani nutrizionali, che sono delle vere e proprie simulazioni di come deve essere strutturata una giornata tipo di un atleta di potenza, con l'integrazione. Quindi ci sarà la parte nutrizionale e l'integrazione specifica, riferita ad esempio al giorno di gara, piuttosto che al giorno di preparazione alla gara. Quindi sono molto dettagliate e specifiche e possono essere applicate sul campo appunto agli sportivi di potenza. Il protocollo di nutrizione e di integrazione quindi a tutti gli effetti è uno strumento valido sia per accrescere la propria cultura, ma anche e soprattutto per supportare l'atleta, specifico in questo caso degli sport di potenza, sul campo. Grazie.